Cosa ha cambiato il settore? Il numero di istituzioni aumenta dell'11,6%, il numero di dipendenti aumenta quasi del 16% e il numero di volontari aumenta oltre il 16%. E sul territorio com'è la situazione? Sul territorio si conferma la concentrazione delle istituzioni non profit al nord, pensiamo che più del 50% sono concentrate al nord, però si ha un'importante novità, e cioè aumenta la quota di istituzioni non profit nel centro e nel mezzogiorno rispetto al 2011. Il cambiamento più rilevante è quello della campagna con un incremento delle istituzioni oltre il 30% e un incremento dei dipendenti e delle istituzioni non profit per oltre il 50%.